Era mattino inoltrato quando si svegliò. Uno dei nani gli era caduto addosso nell'oscurità in cui giaceva ed era rotolato con un rumore sordo giù dalla piattaforma e sul pavimento. Era Bofur e si stava lamentando quando Bilbo aprì gli occhi. Alzati poltrone o non troverai più niente per fare colazione. Bilbo saltò su. Colazione? gridò. Dov'è la colazione? Beh per lo più nelle nostre pance risposero gli altri. Ma quello che rimane sta fuori sulla veranda. Abbiamo cercato Beorn da quando è sorto il sole ma di lui non c'è traccia in nessun posto anche se abbiamo trovato la colazione pronta appena siamo usciti. E dov'è Gandalf? domandò Bilbo scappando a gran velocità in cerca di qualcosa da mangiare. Ma in giro da qualche parte gli risposero. Ma non ci fu segno di Gandalf per tutto il giorno fino a sera. Proprio prima del tramonto egli entrò nella sala dove lo Hobbit e i nani stavano cenando. Ancora una volta serviti dai favolosi animali di Beorn. Di Beorn non avevano più notizie dirette o indirette dalla notte prima e la cosa li stava mettendo in imbarazzo. Dov'è il nostro anfitrione? E dove sei stato tu tutto il giorno? gridarono tutti. Una domanda per volta e nessuna prima di cena. Non ho mangiato neanche un boccone da quando ho fatto colazione. Infine Gandalf spinse via il piatto e il boccale. Aveva mangiato due enormi filoni di pane con una montagna di burro, miele e fiocchi di crema di latte. E bevuto almeno un litro di idromele. E tirò fuori la pipa. Esponderò per primo alla seconda domanda. Disse. Ma che bellezza! Questo sì che è un posto splendido per fare anelli di fumo. E così per un bel po' non riuscirono a cavargli fuori nient'altro, occupato com'era a lanciare in aria anelli di fumo, che andavano ad attorcigliarsi intorno ai pilastri della sala, trasformandoli in una varietà di forme e colori e facendoli poi fluttuare in maniera che si rincorressero a vicenda fuori dal buco sul tetto. Chissà che strano effetto vederli dall'esterno. Apparire nell'aria così all'improvviso uno dopo l'altro. Verdi, blu, rossi, argente, gialli, bianchi. Grandi, piccoli, piccoli che si infilavano dentro i grandi, disegnando degli otto. E tutti che svanivano come uno stormo di uccelli in lontananza. Sono stato sulle tracce degli orsi. Disse infine. La notte scorsa deve esserci stata qui fuori una delle riunioni perodiche degli orsi. Non ci ho messo molto a capire che Beorna non poteva aver fatto da solo tutte quelle orme. Ce n'erano di gran lunga troppe. Inoltre erano di varie dimensioni. Direi che c'erano orsi piccoli, orsi grandi, orsi normali e orsi giganteschi, tutti a danzare lì fuori dal calare delle tenebre fino a quasi l'alba. Venivano da quasi tutte le direzioni, tranne da Occidente, al di là del fiume delle montagne. Da quel lato c'era solo una serie di impronte. Nessuna che ne provenisse, solo impronte che si allontanavano da qui. Le ho seguite fino alla Carroc e a quel punto sparivano nel fiume. Ma l'acqua dietro alla roccia era troppo profonda e la corrente troppo forte perché potesse attraversare. Come ricorderete è abbastanza facile arrivare alla Carroc da questo lato passando per il guado. Ma dall'altra parte c'è un dirupo che si erge sopra un'ansa turbinosa. Ho dovuto camminare per varie miglia prima di trovare un posto dove il fiume fosse abbastanza largo e basso perché potessi attraversarlo a nuoto. E poi tornare di nuovo indietro per altrettante miglia prima di ritrovare le tracce. A quel punto era troppo tardi per poterle seguire a lungo. Puntavano nella direzione del bosco, sul lato orientale delle montagne lebiose, dove abbiamo fatto la nostra bella festicciola coi mannari, due notti fa. E adesso credo di aver risposto anche alla vostra prima domanda, concruse Gandalf e rimase a lungo in silenzio. Bilbo credette di capire a cosa alludesse lo stregone. «E cosa dobbiamo fare?» gridò. «Se porta qua giù tutti i mannari e tutti gli orchi, saremo catturati e uccisi tutti quanti. Sbaglio avevi detto che non era loro amico. Infatti, non fare lo stupido. È meglio che te ne torni a letto. Hai il cervello ancora addormentato». L'hobbit si sentì alquanto avvilito e poiché pareva che non ci fosse altro da fare andò a letto. E mentre i nani stavano ancora cantando, si addormentò continuando a spremersi la testolina riguardo a Peorna, per poi trovarsi a sognare centinaia di orsi neri che intrecciavano le danze tutto intorno al cortile, al chiaro di luna. Poi si svegliò quando tutti gli altri dormivano e sentì ancora una volta lo stesso grattare, strisciare, ansimare e ringhiare della notte prima. La mattina dopo furono svegliati tutti da Beorn in persona. «E così eccovi ancora qua», egli disse. Tirò su l'hobbit e rise, senza essere stati ancora mangiati dai mannari o dagli orchi o da orsi malvagi, mi pare. E dette un colpetto sul panciotto del signor Baggins con pochissimo rispetto. «Il coniglietto sta ridiventando bello grasso, forza di pane e miele, soghignò. Venite a mangiare un altro po'. Così andarono tutti a fare colazione con lui. Beorn era decisamente allegro, una volta tanto. Anzi, era proprio di ottimo umore e li fece ridere tutti con le sue storie alle buffe. E non ebbero da aspettare troppo, chiedendosi dove mai fosse stato o perché fosse così gentile con loro, perché lo disse lui stesso. Era andato oltre il fiume e poi direttamente potete immaginare a quale velocità potesse viaggiare, se non altro in forma di orso. Vedendo la radura dei lupi tutta bruciata, aveva presto appurato che quella parte della loro storia era vera, ma aveva appurato anche qualcosa di più. Aveva infatti catturato un mannaro e un orco che girovagavano nei boschi. Da essi aveva avuto notizie, le pattuglie degli orchi stavano ancora dando la caccia ai nani insieme ai mannari, infuriati a causa della morte del loro grande orco, e anche per il naso bruciato del campo dei lupi, e per la morte dei suoi principali servitori provocata dal fuoco dello stregone. Ecco che cosa gli avevano detto quando li aveva costretti, ma aveva anche intuito qualcosa di più malvagio che bolliva in pentola, e che presto, nelle terre all'ombra delle montagne, ci sarebbe stata una grande incursione all'interno degli eserciti degli orchi con i loro alleati lupi per trovare i nani, o per vendicarsi sugli uomini e sulle creature che vivevano lì. Già che pensavano che li stessero proteggendo. Era proprio una bella storia la vostra, disse Beorna, ma mi piace ancor più adesso che sono sicuro che è vera. Dovete perdonarmi se non ho creduto alla vostra parola. Se viveste vicino al limitare del bosco tetro, non credereste alla parola di nessuno che non conoscesse bene. Sta di fatto che posso solo dire di essere tornato a casa di corsa, più velocemente possibile per accertarmi che foste al sicuro e per offrirvi di aiutarvi come posso. In futuro avrò un'opinione migliore dei nani. Ucciso il grande orco. Avete ucciso il grande orco. Soghignò tra sessi. E cosa hai fatto all'orco e al mannaro? Domandò Bilbo all'improvviso. Beh, vieni a vedere, disse Beorna. Ed essi lo seguirono attorno alla casa. La testa di un orco era infilata su un palo fuori dal cancello e dietro c'era la pelle di un lupo inchiodata ad un albero. Beorna era un nemico feroce, ma adesso era loro amico. E Gandalf ritenne saggio raccontargli l'intera storia e il motivo del loro viaggio, così da poter approfittare di tutto l'aiuto che Beorna fosse in grado di offrire. Questo fu quanto Beorna promise di fare. Per il loro viaggio verso la foresta avrebbe dato un pony a ciascuno e un cavallo a Gandalf e li avrebbe caricati tutti di cibo sufficiente per settimane, se amministrato con cura. E imballato così da poter essere trasportato più facilmente possibile. Noci, farina, barattoli di frutta secca sigillati, rosse di pignatte, piene di miele e dolci biscottati che sarebbero durati a lungo. Piccole quantità dei quali sarebbero bastate a sostentarli per lunghi tratti di strada. La ricetta di quelle gallette era uno dei suoi segreti, ma contenevano miele, come la maggior parte del suo cibo, ed erano buone da mangiare, anche se facevano venire sete. Disse che non avrebbero avuto bisogno di trasportare acqua da quel lato della foresta, poiché c'erano rivi e sorgenti lungo il calmino. Ma la vostra strada attraverso Bosco Tetro è scura, pericolosa e difficile, aggiunse. Non è facile trovarvi né acqua né cibo, non è ancora la stagione delle noci, anche se in verità potrà essere arrivata e passata prima che raggiungiate l'altra parte del bosco. E le noci sono più o meno le sole cose buone da mangiare che crescano là dentro. Tutto il resto è selvaggio, oscuro, strano, feroce. Vi fornirò di otri per portare l'acqua e vi darò anche archi e frecce, ma dubito molto che qualsiasi cosa troviate dentro Bosco Tetro sia abbastanza salubre da essere potabile o commestibile. So che lì dentro c'è un corso d'acqua, nero e turbinoso, che attraversa il sentiero. Non dovete né bere né fare il bagno. Ho sentito dire infatti che le sue acque sono magiche e danno sonnolenza e oblio. E nelle cupe ombre di quel posto non credo che possiate cacciare nulla, salubre o non salubre, senza allontanarvi dal sentiero. E questo non dovete farlo per nessun motivo. Questi sono tutti i consigli che posso darvi. Oltre il limitare della foresta non posso aiutarvi molto. Dovrete contare sulla vostra fortuna, sul vostro coraggio e sul cibo che vi do. Debbo chiedervi di rimandarmi il cavallo e i poni appena sarete giunti alle soglie della foresta, ma vi auguro ogni bene. E sappiate che la mia casa è sempre aperta per voi, se mai doveste ripassare da queste parti.